Siamo qui per insieme dare inizio a questo evento della Fiera di Pordenone che ha come scopo, il titolo la dice lunga, quello dell'incontrarsi, incontro, serve proprio a dare il là a un miglior rapporto tra mondo del lavoro e giovani. Perché sembra che questo rapporto si sia incrinato e anzi ci sia quasi amarezza da parte dei giovani verso il mondo del lavoro che sembra così poco ospitale, poco favorevole nei loro confronti. È un momento difficile, inutile sottolinearlo, ma proprio per questo queste iniziative bisogna farle adesso per essere pronti quando poi ricominceremo e dobbiamo ricominciare subito proprio come Paese. Quindi la presenza nostra come istituzione oggi ha non solo l'importanza della testimonianza, ma della partecipazione a iniziative di questo tipo per rilanciare questa simbiose perfetta che ci deve essere tra mondo del lavoro e giovane.